mi siedo bene come fanno quelli che presentano che presentano bene le grandi stelle perché questa che è seduta davanti a me è una vera grande stella duemila vincitore del davidi donatello come miglior attore protagonista e mai lo ringrazieremo abbastanza per aver interpretato e fatto rivivere aggiungo io giuseppe impastato 2001 vincitore della coppa volpi i cento passi ovviamente il film marco tullio giordana 2001 vincitore della coppa volpi 58esima mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia per luce dei miei occhi di giuseppe piccioni 2004 vincitore del nastro d'argento per la meglio gioventù ed è ancora marco tullio giordana dirigere 2008 con feltrinelli ogni ricordo un fiore luigi locascio me la sono preparata guarda me la sono scritta bene 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 grazie grazie perché grazie sono molto gentili dunque non saprei da dove partire se non nel ringraziarti di aver accettato questo invito che non è un modo di dire un modo di no sono io sono felicissimo di essere qua anzi grazie a voi mi avete invitato sono un vostro ammiratore una rete bellissima grazie ultimamente siccome ho due figli piccoli abbiamo due figli piccoli di 6 e 4 anni teniamo la televisione quasi sempre spenta mentre prima io ero un grande consumatore di televisione invece adesso la teniamo spetta perché non sappiamo in che cosa ci si imbatte però le poche volte che l'accendiamo quando col telecomando si è sicuro su tele 2000 c'è qualcosa di ma quanto sei caro ti ringraziamo di questo dunque io io ho soltanto raccontato una parte detto anzi mi scuso se magari forse qualche data l'ho sbagliata ma è bello che hai messo insieme il libro con queste due tre cose così belle all'inizio questo sì quindi mi auguro che sia quindi la la tua capacità di saper essere e di sapere interpretare e di sapere essere quando un attore quando un grande attore interpreta in realtà lo fa per noi che vorremmo essere quel protagonista ma non ci riusciamo e vorremmo pensare come quel protagonista non ci riusciamo ed ecco che arriva chi per l'attore esattamente uguale chi riesce a farlo no ma anche l'attore vorrebbe essere quel personaggio e si sforza di diventarlo perché leggere appunto la sceneggiatura in cui si parla di peppino impastato oppure in cui il personaggio è nicola carati della miglia gioventù c'è un uomo anche lui straordinario non come peppino che è vissuto veramente invece nicola carati della miglia gioventù personaggi inventato però a suo modo con un'esperienza bellissima di vita anche da comunicare agli altri l'attore rimane come dire colpito si commuove mentre legge la sceneggiatura dice come faccio a diventare questa persona un po come lo spettatore anzi in un certo senso l'attore è costretto un po a studiare a darsi da fare lo spettatore invece ha il vantaggio che semplicemente solo nell'atto della visione di un film riesce a diventare quella cosa con più semplicità con più naturalezza per quella magia che si crea quando è tutto buio ed è silenzio al cinema è silenzio a casa di fronte alla televisione accesa ma io provo ad immaginare le poi vi racconto della pennichella di luigi locascio mi è venuto in mente ora perché ho pensato alle notti di lavoro si passa subito ai vizi no ma è una necessità il mio libertinaggio è la pennichella la pennichella no scusa poi arriviamo al libro cioè tu sei uno che fa la pennichella ogni pomeriggio faccio sempre ma perché appunto noi eravamo cinque figli mia madre che la ida che tra l'altro è una vostra grande ammiratrice ottima attrice peraltro attrice anche sì sì l'ho coinvolta in un film che ho fatto come regista fa mia madre nella città ideale e mia madre appunto ha cinque figli ha insegnato praticamente tutta la vita e siccome eravamo cinque a un certo punto basta tutti a letto il pomeriggio e da allora quindi noi cioè io sono diciamo schiavo anche di questa cosa qua cioè per me la giornata e in realtà non è la giornata sono le giornate sono ecco mia mamma ida e praticamente per me non esiste io ora ho 51 anni in realtà ne ho 102 io ogni giorno è come se fossero due giornate ma io nel calendario le scandisco come se come se fossero due giornate va bene ne dimostri 31 ma va bene lo stesso grazie succede ogni ricordo un fiore allora a me è capitato di vedere la presentazione di questo di questo libro di sentire persone che sono andate la presentazione di questo libro e di comprendere nella genesi di questo libro quello che solo un grande attore poteva fare cioè prendere appunti di vita sì no perché questo in fondo è una questo è molto di più ma è una raccolta di appunti di vita sì vissuta immaginata pensata pensata sì ripensata anche perché poi la scrittura permette anche questo fatto di rimanere molto a lungo sulle cose di poterci tornare c'è no tutte delle fasi nella scrittura fino alle bozze finali la parte della correzione finale prima di andare in stampa c'è no no per io in realtà avevo già scritto già scritto per il teatro avevo scritto dei copioni teatrali che poi erano diventati anche certe volte dei libri non avevo mai scritto narrativa perché i testi teatrali erano tutti tratti da testi importantissimi della tradizione dalla tra quello ce l'aspettavamo luigi quello noi ce l'aspettavamo no di teatro no aspetta e sì ma per rispondere a quello dice che tu degli appunti di vita certo punto mi sono dato questo compito riesce la vita di tutti i giorni le cose che mi capitano un racconto un articolo che leggo sul giornale a diventare ipotesi di racconto questa è stata la cosa che mi sono che ho cercato di di vedere e allora è nato questo personaggio pari de bruno che interrompe tutti i suoi racconti alla prima frase per cui il libro è fatto di 230 incipitte di 230 inizi di racconto interrotti questi 230 incipitte sono nati nella vita cioè appunto incontro il professor nel poeta un poeta amico autorinese roberto rossi bercerutti che mi racconta il suo tragitto da casa a scuola in un parco dove c'è uno degli uccelli che cantano le sue meditazioni sulla vita diventa l'incipit del professore che va a scuola mio fratello mi racconta delle difficoltà in madagascar in un fiume sta lì che insomma tra la vita e la morte diventa un incipit in questo senso sono dei ma molto trasfigurati chiaramente allora molto trasfigurati e tutti da leggere il una tua ed assoluto tu sei una persona che sa far piangere sa far bloccare chi ti segue di fronte a un più complicato credo comunque perché perché sei pirotecnico insomma sei tante persone in una e questo siamo tutti ce lo dimentichiamo e certe volte la destra lo cascio senza se mi mettono a fare la meglio gioventù e io non so da dove partire mentre non si c'è sicuramente una cosa non so come chiamarlo una predisposizione una predisposizione però se quando noi abbiamo tutti giocato all'infermiera abbiamo gioco tutti giocato al medico eravamo qualcun altro e diventavamo e non ci preoccupavamo la poi il discorso è come diventare attendibili per gli altri ma il gioco della trasformazione è una cosa che conteniamo come 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 esseri umani cioè noi partiamo tutto quello che impariamo la lingua le canzoni sono fatte sulla sull'imitazione sull'ascolto degli altri e quindi il discorso è poi come come fare dei personaggi immensi come quelli di shakespeare come la tragedia e là c'è uno studio per cui è ma il principio dell'imitazione del desiderio di diventare qualcos'altro questa è una cosa che ci riguarda tutti tu facevi tutto questo quando speravi di non solo di diventare attore ma in realtà qualcuno ti notò per poi chiamarti a fare l'attore ma in realtà il progetto era un altro ai semafori ne facciamo spieghiamo allora allora io ero uno studente di medicina ex atleta anche se il figlio per fortuna sono seduto in piedi nessuno crederebbe che sono stato anche un atleta di una certa importanza perché no ragazzi no perché sono piccolino diciamo non sono però facevo appunto atletica leggera e con un gruppo di ex atleti facevamo i supporter d'atletica leggera in giro per il mondo diciamo helsinki stoccarda andava in giro a seguire le gare di atletica leggera non avevamo i soldi e quindi per andare da una città all'altra facevamo teatro di strada nato così cioè mettiamo il cappellino quelle cose che si vedono nelle piazze facciamo per impratichirci quando eravamo a palermo stavamo ai semafori delle strade e facevamo il jukebox vivente ci andavamo invece di vendere i fazzolettini o fare i lavavetri chiedevamo a che canzoni volevano sentire noi suonavamo cantavamo facciamo dei balletti insomma è una cosa un po surreale un po io ho sentito dal caro carissimo massimo gramellini cantare i bijis ti ho sentito giuro non solo io era qualche purtroppo anche altre volte certo ma non te lo chiederei assolutamente ma insomma faceva parte del finché qualcuno non dice senti giovane ragazzo atleta e chi l'ha detto che gli atleti sono tutti altri un metro e 90 peraltro vieni fai teatro perché poi a un certo punto federico tiezzi che è un regista di teatro molto molto bravo con cui poi sono tornata cioè i casi della vita ho lavorato con lui poi al piccolo di milano facendo invece il protagonista ma in quello spettacolo invece facevo l'ultimissima parte di aspettando godò mi dà questa possibilità di fare una tournée e io stanno lavorando con gli attori veri quindi non quelli che eravamo noi un po improvvisati un po goliardici mi rendo conto della bellezza del lavoro dell'attore cioè questi matti mi sono sembrati all'inizio di cui faccio parte adesso anch'io che stanno lì al tavolino col copione ognuno col copione e sulla singola parola come si diventa e con una certa cioè con un atteggiamento quasi da come da anatomo patologo c'è un atteggiamento molto di concentrazione di microchirurgia sulla singola parola per poterla sostenere sulle proprie spalle poterla diventare poi sulla scena a me stupisce di luigi locascio la oltre al fatto del marchio di fabbrica e qui dobbiamo andare dalla dalla mamma e da propria chiedere da di ragazzino no cioè tu sarai un ragazzino ad 80 anni perché la faccia da ragazzino auguro perché questo sento mi sento abbastanza giovane sempre nella condizione di figlio sempre nella condizione di allievo quindi forse questo mi aiuta che questo aiuta moltissimo perché chi si sente sempre allievo è sempre lì pronto a migliorare altro lo sono non è che soltanto mi sento ma lo so lo sei e questo e questo fa parte del tuo lavoro e della bellezza del tuo lavoro la il grande obiettivo da raggiungere ancora perché tu hai sempre questa fame tu hai gli occhi neri e che sono una rarità perché gli occhi neri sono una cosa a parte no sono sono diversi sono più sono molto immediatamente la realtà il mondo per arrivare dove non ci auguro all'oscar perché no sinceramente non meriti come non in questo momento sono entrato nel trip della scrittura lo so bene ero partita dal chiederti allora lo scoraggiamento lo scoraggiamento che verrà dalle batoste magari appunto provo a scriverne un altro e non viene bene nessuno lo pubblica ma io diciamo la la scrittura è una cosa che ho sempre avuto in un certo senso anche la recitazione e la scrittura sono venute insieme perché quello che dicevo prima c'è questo addestramento alla parola la dell'interpretazione delle persone per gli altri dell'interprezzazione ad alta voce cioè non è quello che fa magari uno studioso e nel silenzio oppure poi nella divulgazione critica di un testo noi invece proprio ciò dobbiamo veramente caricare sulle spalle dobbiamo diventare siamo come dei messaggeri non so come dire di quel testo siamo quelli che teoricamente devono conoscerlo meglio di tutti quelli che sono in sale in quel momento c'è un atteggiamento quasi un po di megalomania e tutto questo non può non portare a amare la scrittura amare i testi amare i grandi autori in questo senso le due cose veramente vanno insieme è chiaro che quando un attore ha il vantaggio che c'è qualcun altro che scrive per te soprattutto se sono dei grandi grandi scrittori e invece uno umilmente piano piano prova io ero partita dalla pennichella pomeridiana ma tu questo libro quando l'hai scritto dormendo appunto l'ho scritto il fatto che sia è la storia di un uomo pari de bruno che fa un viaggio per provare a continuare almeno uno di questi 230 incipit che ci sono o non sono uno scrittore per essere scrittore devo scrivere ho un racconto lungo un romanzo lui si è sempre fermato alla prima frase perché distratto da qualcos'altro soffre di una sindrome dell'incompiutezza cronica multifattoriale questa è la sua malattia sì io sono ex appunto medico nel senso che ero iscritto e quindi ho voluto classificarlo in maniera molto molto precisa e quindi fa questo viaggio per provare a continuarne almeno uno ma ognuno è di una frase quindi questi incipiti io ho potuto scriverli veramente ogni giorno in così in maniera molto libera molto tranquilla vedete la totale assenza al di là della dichiarazione che ha fatto luigi lo cascio e per la quale lo ringraziamo insomma dei suoi due piccoli bimbi io non faccio domande sulla vita privata perché ritengo che il privato sia sempre privato però tu sei bello da vedere con la tua famiglia sei bello da vedere con tua moglie siete belli insieme siamo belli insieme questo film e poi che vedo che di cui vedo l'immagine la la città ideale tra l'altro lo ha montato lei perché abbiamo anche questa cosa molto bella le montatrice quindi capita di fare le cose insieme addirittura questo primo film lei aspettava il primo figlio che è che è tommaso e quindi nel film a certo punto c'è la voce di un pianto di un bambino che era lui abbia l'abbiamo abbia preso il microfono l'abbiamo per dire ecco quindi la vita entra dentro anche le opere in qualche modo è un bel lavorare insieme tu sei un uomo con i piedi facevi il salto in alto no in alto e l'atletica no no correvi noi facevo mezzofondo prima c'è corse gli 800 15 molta fatica ma erano gli anni in cui c'era totò antibo grande atleta quindi c'era una scuola di mezzofondo palermitano molto forte quasi tutti i ragazzini volevamo essere un po come antibo e allora non c'erano tutti più forti di me lì c'era libero il salto in lungo e il salto triplo detto se vuoi venire in squadra a fare le gare con noi devi fare quello quindi io facevo una specialità perché tu hai i piedi così ben piantati per terra insomma il salto in lungo per un attimo voli e poi il salto triplo si atterra e si riparte e questa è la tua splendida virtù i piedi ben piantati per terra gli occhi neri per guardare e aprire la luce e tagliarla e guardare meglio quello che è davanti un oscar da vincere una famiglia bellissima le cose non mi mancano diciamo da fare e dici la cosa prossima che vuoi fare vuoi realizzare così noi l'abbiamo sentita per primi ci sentiamo più contenti oltre al prossimo libro che scriverai è la cosa più a cui a cui terrei di più la prossima cosa che voglio fare tornare in questa trasmissione a parlare del prossimo libro luigi locascio l'ora solare noi lo aspettiamo grazie 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 a te per tutto per tutto quello che fai e per tutto quello che sei finestre spalancate arriviamo tra un attimo l'ora solare entra a casa vostra tra un attimo Grazie.